Credo che sia necessario ricreare il soggetto provincia e che il presidente debba essere eletto in modo diretto, lo ha detto il ministro per gli affari regionali e autonomie Roberto Calderoli. Molti comuni, soprattutto i più piccoli, si sono trovati in difficoltà per la soppressione degli enti intermedi, la cui presenza è determinante. Calderoli è anche tornato sull'autonomia differenziata, porta opportunità ed è utile anche contro lo scaricabarile delle responsabilità.